Grazie Presidente, mi ripeterò per l'ultima volta, questi sono interventi che vanno a meglio indirizzare un percorso comunque la cui volontà già è assolutamente chiara nel regolamento e quindi anche in questo caso si tratta di un'ulteriore specificazione e rinvio a quanto contenuto all'articolo 120 del codice dei beni culturali visto che in precedenza nello stesso articolo erano state indicati tutti i dispositivi di legge, quindi è anche in questo caso un ulteriore approfondimento e più preciso indirizzo.